Il Live Impact di Keitech è un'esca dal corpo allungato tipo Worm caratterizzato da dei ring e una coda V-tail. Quest'esca è ideale per impieghi shaking sia in drop shot che su testina. La coda molto sottile permette in acqua a quest'esca di avere un movimento molto accentuato. I ring emettono molte vibrazioni e la particolarità che a metà del corpo cerca c'è uno sottile spazio vuoto che ci consentirà di andare a inserire o degli insert o degli ami per pescare a necco. La mescola galleggiante ci consentirà in caso di innesco necco di mantenere l'esca dritta sul fondale e di mantenerla in assetto anche in caso di innesco a drop shot. Gli inneschi per cui si presta molto bene questa esca sono le jig head sia innescata che a nose, sui micro jig, a necco e a drop shot. Attualmente viene commercializzata in tre misure, due pollici e mezzo, tre pollici e quattro pollici. Con queste tre misure avremo la possibilità di insidiare tantissimi predatori, dai persici fino al basso. Grazie. 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 Grazie.